Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Luca Chirvi e oggi vedremo come utilizzare stylar.ai che è un sito che tramite l'intelligenza artificiale ti permette di trasformare i tuoi disegni 2D in 3D senza l'utilizzo di determinati software tridimensionali. Quindi vedremo in particolare come funziona il sito, che parametri ti mette a disposizione, quali stili ti mette a disposizione, importeremo immagini, le modificheremo e le esporteremo e alla fine trasformeremo una propria foto in un personaggio tridimensionale. Ma iniziamo. Come già accennato quindi nella parte introduttiva del video stylar.ai è un sito che tramite l'intelligenza artificiale vi permette di migliorare nel campo artistico, migliorando le vostre qualità artistiche nell'illustrazione, nel character design, ma può essere utilizzato anche per l'interior design. La cosa bella di questo sito per esempio è che vi permette di modificare la composizione, creare la composizione che volete per le vostre illustrazioni, per i vostri artwork, semplicemente con un drag and drop, ma anche di unificare elementi che hanno uno stile artistico diverso per creare un unico stile artistico. Però quello che interessa a noi in questo momento è vedere per esempio come trasformano l'illustrazione, un character che voi avete fatto in 2d, trasformarlo in 3d. Siamo quindi su stylar.ai e dobbiamo registrarci. Notate però che a causa dell'alta richiesta i posti per le registrazioni sono limitati e la registrazione viene aperta ogni 15 minuti, quindi dovete essere molto veloci o molto fortunati. Io già sono registrato, quindi entro nel sito, vado su new project, importiamo l'immagine che abbiamo scelto, la modifichiamo affinché entri perfettamente all'interno del canvas. Cliccando in alto al centro del sito vediamo che è possibile modificare il progetto, più a destra vediamo che è possibile modificare invece lo zoom dell'immagine. Il sito ci mette a disposizione diversi stili tra i quali scegliere. Clicchiamo su autoprompt e vediamo qual è il prompt che viene fuori semplicemente con un clic. Non ci piace, lo andiamo a modificare e clicchiamo su stylarize. In attesa di vedere i risultati che vengono fuori vi volevo far notare che in alto a destra c'è la scritta 200, che sono i crediti che ha a disposizione per una settimana. Ogni volta che fai un tentativo che clicchi su stylarize vengono scalati i quattro crediti. Vediamo che i risultati che sono venuti fuori sono molto interessanti. Se ci pensate con un semplice clic siete riusciti a trasformare una vostra immagine 2d in 3d creando appunto un personaggio realistico. modifichiamo in maniera un po più approfondita la descrizione, clicchiamo su stylarize e aspettiamo i risultati. Tutti i risultati sono molto interessanti, guardate. Una volta che ho scelto la mia immagine la posiziono sul canvas, vedete che è stata aggiunta su layers e esporto. Una volta aperta con photoshop notiamo che è presente il watermark di stylar sulla nostra immagine. Invece adesso voglio farvi vedere cosa fa il sito con una mia immagine personale, una mia foto. Importo la mia immagine, la ridimensiono in maniera tale che entri perfettamente all'interno del mio quadro. Dopodiché scelgo lo stile, in questo caso a differenza dell'immagine precedente scelgo uno stile completamente diverso e clicco su autoprompte. Vado a modificare la descrizione che è venuta fuori nei punti che ritengo più opportuni. In questo caso per esempio vedo che la descrizione dice che sto tenendo in mano un telefonino, cosa non vera? Vado un po' più nel dettaglio, aggiungo per esempio che sto tenendo in mano una Wacom pen, modifico Structure Match, lo porto a uno e clicco su Stellarize. Oddio sono proprio curioso. Vediamo i risultati. Diciamo che mi ha abbastanza ringiovanito. Mi ha messo un doppio orologio. scelgo una delle proposte che poi esporto e apro in Photoshop. Con gli strumenti di Photoshop posso andare ad eliminare quegli errorini che con l'intelligenza artificiale sono all'ordine del giorno. Che ne so per esempio un dito in più, per esempio una penna lunghissima oppure capelli laddove non devono esserci i capelli. Noi siamo arrivati alla fine del video e spero che lo abbiate trovato interessante. Se sì mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi al mio canale. Cerco sempre di creare dei contenuti utili che vi possano aiutare a crescere professionalmente e artisticamente e quindi ho bisogno di tutto il vostro supporto per poter continuare insieme questo viaggio. Noi ci vediamo il prossimo video e nel frattempo stay creative. Ciao ciao bella gente!